Il Bologno secondo me ha fatto la sua partita stasera, ha avuto le sue occasioni, noi nelle nostre siamo stati molto abili. Sono contento perché i ragazzi stanno lavorando molto, con grande impegno, però io vedo che c'è ancora tanto da fare. Noi dobbiamo fare punti per arrivare alla salvezza, i punti che è adesso sono importanti perché noi non sapremo, c'è da fare un ton di punti insomma, quindi noi non sapremo quando saremo in grado di farli, dobbiamo interpretare ogni partita con l'idea di poter strappare i più punti possibili anche perché non è pensabile pensare appunto che tu possa fare un esploiare magari come l'anno scorso, ogni campionato ha la sua storia, le sue dinamiche. Siamo stati bravi, compatti, abbiamo creduto fino alla fine e poi sì, sono arrivati i gol, i tre punti, una serata bellissima. Penso che quando vediamo risultati passati, sì, non abbiamo fatto tanti punti fuori, però è un percorso per noi, quindi si vede che la squadra sta crescendo e Vittoria è arrivata in un ottimo punto, in una nostra crescita e anche fuori casa, quindi tutte le cose sono state ottime, benissime. Grazie Grazie